Benvenuti da NaroSensei Oggi vi insegno come cambiare il server DNS nel vostro computer E perché no anche nel vostro modem o nel vostro router E' una cosa molto molto semplice e veloce Prima di tutto che cos'è il server DNS? Non è altro che il collegamento tra voi e il sito internet o il videogioco a cui state giocando Perciò se voi utilizzate un server DNS molto molto veloce Avrete ping bassi mentre siete in gioco e caricamento delle pagine altrettanto veloci In più possiamo anche avere dei server DNS che di base facciano un po' da firewall E bloccano sia il malware sia i contenuti da adulti Ma questo lo vedremo in un altro video A dire il vero il video l'ho già fatto Ed è quali sono i server DNS migliori in assoluto da utilizzare Dateci un occhio perché secondo me è molto interessante Ora Per cambiare il server DNS Io sono in Windows 10 quindi è tutto molto più semplice Si va sull'iconcina in basso a destra della rete Individuo qual è la mia rete E vado su impostazioni rete e internet Cosa a cui posso accedere anche dal pannello di controllo Andando su rete e internet E su centro connessioni Visualizza rete eccetera eccetera Comunque qui è molto più semplice Arrivo da questo punto andiamo su modifica opzioni scheda E troviamo la mia connessione internet Che in questo caso si chiama Ethernet Perché ho questa qua e basta Questi fanno parte della VPN eccetera eccetera Tasto destro sopra la vostra connessione internet proprietà Ora Troveremo questa bellissima schermata E dobbiamo cercare Protocollo internet versione 4 TCP IPv4 Non è difficilissimo Si seleziona questa casellina E si va su proprietà Ok A questo punto Invece di utilizzare Ottieni indirizzo server DNS automaticamente Cosa che magari voi avete Si clicca su Utilizza i seguenti indirizzi server DNS E qua si piazza Server DNS primario E secondario Oppure preferito e alternativo Allo stesso Come vedete nel mio caso Ho messo quelli di Cloudflare Ovvero 1.1.1.1.1 E 1.0.0.1 Per il secondario Questi server Sono velocissimi E molto sicuri Perché non hanno log Non conservano log Quindi tutto quello che faccio È assolutamente privato Ok Se volete Cambiare il server DNS Invece sul vostro router O sul vostro modem In modo Da avere Qualsiasi connessione internet Di casa Protetta E sicura E veloce Che vi connettiate Col cellulare Via wifi O via LAN Con il cavo di rete Per un pc fisso Basta aprire Un qualsiasi browser Che sia Firefox Opera Chrome Explorer Quello che volete E digitare Il magico Indirizzo Del vostro server Di casa Ovvero Nel mio caso È 192.168.1.1 Può essere .1.0 Può essere qualsiasi altra roba Là dovete vedere I vostri libretti Dei router Si fa invio Nel mio caso Ho un router Tenda Ok Tra l'altro Fantastico Nome utente Password Se non avete fatto Modifiche particolari Dovrebbe sempre essere Admin Admin Ok Si entra Dopo aver fatto Riposare un attimo Quei due secondi Il caricamento Si va su Impostazioni LAN Qua può cambiare Qualsiasi Schermata Quindi Non scrivetemi Io non ho L'impostazione Nella LAN Così Lo so Può essere Perché ogni router Ogni modem È diverso Cercatevi Dove Può essere La connessione LAN E dentro Le impostazioni Andate in cerca Di server DNS primario E server DNS secondario A questo punto Voi Ci potete Piazzare Qua dentro Tutti quelli Che volete In questo caso Il mio principale È Quello che vi ho detto Prima Il 192 168.1.1 E va bene Che serve per Collegarsi Mentre Il secondario È 8.8.8.8 Quello di Google Molto veloce Sempre aggiornato Gratuito E siete a posto Vabbè Può essere Questo E può essere Qualsiasi altro Io di Server DNS Ho fatto proprio Un video In cui spiego Quali sono I server DNS Migliori Attualmente Gratuiti E che Che vi Che vi Possono Proteggere Da contenuti Da adulti O Da malware O Da Pop up Eccetera Quindi Dateci un occhio Fatemi sapere Cosa ne pensate Penso che farò Un video Anche su Come cambiare I server DNS Su Android Quindi State aggiornati Se è stato utile Il mio video Iscrivetevi al canale E alla prossima puntata Bye bye